Ciao terrapianisti, sono Zack. Quando si parla a qualcuno della terra piatta di solito non arrivano al punto della terra piana. Ecco che quelli che conoscono un po' di matematica iniziano a testare le cose matematicamente ed è ovvio che arrivano ai risultati riportati dai libri di testo o da Google o ridacchiando pensano che sono corretti ma non si rendono conto che è già stato calcolato tutto e non importa quanto siano bravi in matematica, se non si comprende il gioco si farà quello che vogliono facciate, sarete intrappolati dentro la vostra propria testa, vi state chiedendo perché sto dicendo questo. Qualcuno di voi ha voluto che guardassi il video di un certo tipo che ha cercato di calcolare la distanza dell'ISS usando dei buoni stupidi calcoli, li chiamo buoni stupidi calcoli perché la matematica è buona ma è anche stupida, è ovvio che questo tizio è un troll o simile perché chiunque che fa parte da tempo della comunità della terra piana sa chi sono i troll, ma non sto cercando di insultarlo ma la verità è questa, se pensate che siamo stupidi perché non ci lasciate in pace, lasciateci in pace e vivete la vostra vita, non voglio smentire i troll, semplicemente li ignoro, ma il motivo per cui faccio questo video è perché anche questo può aprire la mente di altre persone. Pertanto il mio scopo non è smentire lui, ma usare questo video come esempio per coloro che pensano che i calcoli dimostrano qualsiasi cosa. Penso che sia un ottimo video per le persone che vogliono arrivare al dunque, perciò signor Red o qualunque sia il tuo nome, puoi insultarmi se vuoi, ma questa è la prima e l'ultima cosa che avrai da me. Per me non sei mai esistito e mai esisterai. E adesso guardiamo un po' il tuo video. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è trovare l'angolo A sul nostro schema e dato che l'angolo A è uguale all'angolo B possiamo prendere due piccioni con una fava. La dimensione angolare della Luna si conosce, basta una ricerca veloce su Google che ci mostra l'ampiezza di circa 0,52 gradi vista dalla Terra. Ora, se sovrapponiamo le due tracce insieme, possiamo vedere che queste hanno una certa ampiezza rispetto alla Luna. E misurando il diametro in pixel della Luna dal filmato live, vediamo che ha un'ampiezza di circa 962 pixel. Il percorso delle nostre due tracce, da centro a centro, sono di 224 pixel. Se prendiamo 962 e lo dividiamo per 224, otteniamo una proporzione di 4,2921. Quindi se prendiamo la dimensione angolare della Luna di 0,52 gradi e la dividiamo per il valore che abbiamo appena trovato di 4,29, significa che l'angolo A del nostro schema diventa 0,1212 gradi e siccome l'angolo A è uguale all'angolo B, significa che anche l'angolo B è pari a 0,1212 gradi. Adesso che abbiamo l'angolo B dobbiamo trovare la nostra base. La nostra base è la distanza fra me e il live fatto durante le nostre osservazioni. E secondo Google Earth ed il misuratore di distanza distavamo circa 1,11 chilometri. Sì, questo era facile. Ora abbiamo tutto quello che serve per fare una trigonometria di base e risolvere quanto siamo lontani dalla Stazione Spaziale Internazionale durante l'osservazione. Per fare questo dividiamo il triangolo a metà insieme ai suoi valori per avere un triangolo rettangolo. Quello che stiamo cercando è la misura X perché la misura X è la distanza fra noi e la Stazione Spaziale Internazionale durante l'osservazione. Andiamo avanti e troviamo la X. 0,555 chilometri diviso la tangente di 0,0606 gradi ci dà un valore di 524,73 chilometri per la X pari a 32605 miglia. Questo significa che durante la nostra osservazione la ISS era distante 525 chilometri. Bene, andiamo ad analizzarlo. Questi i suoi calcoli. I pixel della Luna, 962 diviso i pixel delle due tracce, 224, uguale a 4,29. Lui ha preso il raggio angolare della Luna che è di 0,52 e l'ha diviso per 4,29 ottenendo 0,1212. E questo è l'angolo A e B. A questo punto aveva bisogno della distanza fra lui e il suo amico troll che è a 1,11 chilometri. Quindi ha deciso di tagliare a metà il triangolo. Così 0,1212 è diventato 0,0606 gradi e 1,11 chilometri sono diventati 0,555 chilometri. Ora vuole la distanza X che è quella della ISS. E così ha fatto questo. 0,555 diviso la tangente di 0,0606 ha ottenuto 524 chilometri. Veramente notevole. Sono giusto 116 chilometri in più rispetto all'altezza media dell'ISS. Wow. Molto vicino. X 0,555 chilometri diviso la tangente di 0,06 gradi ci dà un valore di 326,05 miglia. Fuck! Sono andato a vedere i pixel nel suo link, ma non ho trovato alcuna descrizione di come ha ottenuto i pixel della luna. Non posso giudicare questo. Ma mi chiedo se si è inventato i calcoli per farli apparire così. Voglio dire, sono accurati? Tutti i numeri più importanti di tutto ciò che ha fatto sembra siano già stati fatti e devono essere composti. Comunque, ritengo che i suoi numeri siano abbastanza accurati. Però ha preso il materiale di Google, ha filmato l'ISS ed ha fatto calcoli notevoli che magicamente corrispondono con quelli di Google. Quindi l'ISS è reale. Un momento. Veramente? Andiamo a fare un esempio allora. E spero che lui possa capire il punto. Adesso immagina che io sono la NASA e Google, signor Red, e che ti fornisco le distanze di cui hai bisogno, quindi ti do le distanze della luna e dell'ISS. Devo solo inventare i numeri, ovviamente. In realtà posso scegliere qualsiasi distanza dalla luna e i tuoi meravigliosi calcoli combaceranno con i miei. E l'ISS sarà ancora reale. Giusto? Signor Red? Prova! Andiamo a scegliere dei numeri piccoli, così da poter zoomare e allargare con facilità con il mio software. Supponiamo che la distanza della luna sia di 150.000 km e che la distanza delle ISS sia di 221 km. Questi sono i miei numeri ufficiali, che non puoi cambiare. Adesso, visto che sei l'investigatore, devi fare i tuoi calcoli per vedere se la mia ISS si trova veramente a quell'altezza. Continuiamo con i dati ufficiali che già conosciamo. Il raggio della luna è lo stesso, 1738 km. Il raggio angolare, pertanto, deve essere 0,011 radianti. E questo è come abbiamo ottenuto ciò. Abbiamo diviso il raggio della luna con la distanza. Ho fatto solo quello che fa Google, ok? Fino a che un radiante è di 57,3, come dice Google, ecco quello che dovremmo fare. 0,01158666666666666667 per 57,3 uguale a 0,66. Un sacco di 6 qui, eh? Non so come mai. Quindi il diametro è di 1,32 gradi. Giusto? E qui, ecco come abbiamo ottenuto. 0,66 per 2 fa 1,32. L'abbiamo semplicemente raddoppiato, ok? Adesso usiamo i tuoi pixel perché non abbiamo alcuna idea se sono corretti o meno. Ma non importa, li teniamo perché forse sono giusti. 962 e 224 pixel, così dividiamo 962 per 224 e otteniamo 4,29. Giusto? Adesso facciamo quello che hai fatto lui. 1,32 diviso 4,29 uguale 0,307 che sono l'angolo A e B. Ora che abbiamo l'angolo A e B dobbiamo trovare la linea di base. Manteniamo quella che è, ovvero, 1,11 chilometri. Non dobbiamo cambiare nulla. Cambiando la distanza della Luna e delle ISS è più che sufficiente. Ora dividiamo il triangolo a metà come ha fatto lui ed otteniamo quest'angolo 0,1535 e la distanza diventa 0,555 chilometri anziché 1,11 chilometri. Un calcolo decisamente semplice, eh? Quindi 0,555 chilometri diviso la tangente di 0,153 gradi uguale 207 chilometri. Molto vicino, eh? Se usiamo tutti i decimali otterremo esattamente 211 chilometri, come la distanza che vi ho dato all'inizio. Wow! Questo è ancora più accurato dei suoi calcoli, quindi la ISS è più che reale e la Luna si trova a 150.000 chilometri questa volta. Ho solo voluto farvi una dimostrazione, cari amanti del globo. Provate a scegliere delle distanze a caso. Fate gli stessi calcoli ed avrete l'altezza delle ISS. Inserite la nuova distanza della Luna e delle ISS su Google e prendete in giro il mondo ancora una volta. Vedete che i calcoli possono ingannare le persone che pensano di essere in gamma, mentre non lo sono. Ora, solo per farlo arrabbiare ancora un po', andate avanti a 44 secondi e mettete in pausa. Memorizzate la traccia. Poi andate a 6 e 20 e mettete in pausa. Memorizzate nuovamente la traccia. Le tracce non sono disegnate bene sulla Luna a 9 e 33. Dovrebbero essere più o meno come questa fotografia. Beh, almeno fai le tracce giuste, signor Red. Smetti di ingannare le persone che pensano che sei bravo con i calcoli. Non lo sei! A proposito, Red, questa Terra e la Luna che tu pensi siano sferiche, non lo sono. Sono piatte, come puoi vedere. Parleremo di questo nel prossimo video con Karen B. E andremo a smentire Neidegras Tyson! Grazie di aver guardato. Speriamo vi sia piaciuta questa presentazione del Dottor Zak. Se avete trovato interessante questo video, per favore mettete like, condividetelo ed iscrivetevi al Dottor Zak. Potete scrivere una mail al Dottor Zak a zikoword123-gmail.com E grazie di aver guardato. Grazie a tutti.